Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida di distruggere le vetrine alla collezione Le vetrine del collezionista La collezione si trova qui, a Gattogrill, sulla montagna, non potete sbagliarvi Se avete preso la moneta oro della scorsa settimana, allora sicuramente conoscerete questo luogo Tutto quello che dovete fare è atterrare qui e distruggere le vetrine Nulla di complicato, potete farlo anche con lo strumento raccolta Quindi distruggete le vetrine e la sfida è completata